Novena alla Madonna di Castelmonte Terzo giorno O Vergine Santa, tu che rispondendo al saluto dell'Angelo, nello stupore di tutto il creato, diventasti Madre di Cristo e della Chiesa, fa che guardando continuamente a te, nostro amabile modello, riusciamo ad essere in tutto disponibili alla volontà di Dio e al servizio dei fratelli. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Madonna di Castelmonte, prega per noi. Se ti piace il nostro canale, iscriviti, commenta, metti mi piace o non mi piace. Prega per noi e aiutaci a diffondere la preghiera. Grazie.